Buongiorno, ben ritrovati e ben ritrovate da Usini. Io sono Federica Cabras e io sono Marta Biancu. Oggi siamo qui con la rubrica Riciclo e mi diverto per realizzare una mangiatoia. Per realizzare una mangiatoia ci vuole una bottiglia, scotch oppure nastro adesivo. Ci vuole della colla, delle forbici, colori acrilici e qualsiasi decorazione vogliate. Noi abbiamo scelto delle foglie. Il procedimento è molto semplice. Tagliate la parte centrale della bottiglia e create un'apertura nella parte bassa. Riattaccate l'estremità della bottiglia. Il gioco è fatto. Adesso non vi resta che aspettare, gli uccellini arriveranno al volo. Alla prossima! Grazie! 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 Grazie!